Quella sarebbe la casa di una confraternita. Ehi là, compagni di squadra, benvenuti a bordo! Quale presidente della USMAK ho l'onore di darvi il benvenuto in questa casa? Questa stanza la chiamiamo il Centro Feste. Tecnicamente non ci abbiamo fatto ancora nessuna festa, ma quando la faremo, saremo pronti! Uh-huh! È in arrivo il treno della cioccolata calda! Oh-oh! Prossima fermata, tu! Vorrei cominciare questa riunione dicendo... E così voi siete nel corso di spavento? Lo eravamo! Nessuno di noi è durato molto a lungo. Immagino che la vecchia trita marmo non ce ne tenesse all'altezza. Don Calton, studente anziano. Da 30 anni nell'industria tessile, poi il buon vecchio Don è stato scaricato. Ho pensato che potevo o compatirmi o tornare a scuola e imparare a usare il computer. Ciao! Io sono Terry con la Y. E io sono Terry con la I. Io frequento un corso di danza. E io invece no. 5, 6, 7, 8... Gira con me! Gira con... Perché non hai girato? Perché non eravamo d'accordo di farlo. Hai detto che sarebbe stato forte. Nessuno ha detto che sarebbe stato forte. Ora sono imbarazzato. Ah, ora sei imbarazzato? Sì, perché è successo davanti a delle persone. Tu sei nato imbarazzato. Ehi! Ciao! Io sono Art, studente di filosofia New Age. Sono felice di abitare con voi e ridere con voi. E piangere con voi. Ecco, qui puoi scrivere i tuoi sogni. E adesso tocca a me. Mi chiamo Scott Squibbles, ma gli amici mi chiamano Soufflé. Sono indeciso, single e... indesiderato più o meno ovunque tranne che qui. Bene, ora che ci siamo presentati come capitano della squadra... Quindi in pratica non avete alcuna esperienza di spavento. Non molta, ma adesso abbiamo te! Sei forse il tipo più spaventoso che abbia mai visto, nonostante i tuoi puoi. Ah, grazie. Io veramente credo di avere tutti i requisiti. Hai la mano più grande della mia faccia! Sei come una montagna di pelo! No, andiamo. Non faccio neanche palestra. Già, neanch'io. Non vorrei sembrare un palestrato. E pensavamo di non avere più speranze. Ma Mike ha detto che se vinciamo ci ammetteranno al corso di spavento. Diventeremo dei veri spaventatori! I migliori! Contaci! Sì, certo! Ed ecco quello che stavate aspettando, ragazzi! La vostra personalissima stanza Usma Kappa! Ah, fantastico! Dobbiamo dividerci la camera. Ora vi lascio così vi sistemate. Se vi serve qualcosa dovete soltanto fare un fischio. Ok, grazie amico. Che cos'è uno scherzo? Non serve che siano bravi. Porterò io la squadra alla vittoria. Davvero? E chi porterà la vittoria a te? Ehi, se vuoi tornare a progettare cilindri, ecco, quella è la porta. Fantastico. Ragazzi? C'è qualcuno in casa? Nessuno? Ragazzi? Consacrate voi le vostre anime alla confraternita Usma Kappa? Giurate di mantenere segreto tutto ciò che apprenderete qui? Per quanto terrificante sia! Prestate voi il sacro giuramento del... Per l'amore del cielo! Tesoro! Accendi la luce quando stai qua sotto. Finirei per rovinarti gli occhi. Mamma! Stiamo celebrando un'iniziazione! Oh, che paura! Beh, continuate pure. Fate come se io non ci fossi. Questa è la casa di mia madre. Promettete di proteggere i vostri fratelli. Qualunque sia il prezzo da pagare. E di difendere la Usma Kappa da qualsivoglia pericolo. Per quanto siano sfavorevoli le possibilità di riuscita. Contro ogni male, grande o piccolo. Affrontando infinite pene e sofferenze. No! Non fa niente! Siete ammessi. Sentite, sappiamo di non essere la più ambita delle confraternite. Quindi per noi significa molto avervi qui. Non vedo l'ora di cominciare a spaventare insieme a voi. Fratelli. Sì! È ora di festeggiare! Prendete i cuscini del divano, signori, perché ora costruiamo un fortino! Sì! Sì! È ora di festeggiare! Sì! È ora di festeggiare!